Mancano pochi giorni al suono della campanella, ma in Campania, come nel resto d'Italia, le incognite sono tantissime. Due in particolare i temi che stanno togliendo il sonno a presidi, insegnanti, genitori e istituzioni. Da un lato è il consueto scontro sulla sicurezza degli edifici. Tra certificazioni di agibilità sismica e degli impianti, si sta assistendo ad un rimpallo di responsabilità. Di certo non aiuta, come ha denunciato Legambiente, che il 57% delle scuole campane necessita di manutenzione urgente e che nemmeno un quinto degli edifici totali sia stato realizzato con criteri antisismici. Numeri che fanno rabbrividire e che gettono un'ombra sinistra sull'anno che sta per iniziare. A Napoli, ad esempio, le municipalità che hanno effettuato il monitoraggio delle aule parlano senza mezzi termini di un vero e proprio bollettino di guerra, con sei istituto su dieci inagibili in città. Il giustino fortunato di Soccavo, giusto per citare un esempio, non aprirà e gli studenti dovranno traslocare. L'altro fronte è quello della salute. Tra autocertificazioni e corso al vaccino si prospetta un inizio all'insegna del caos. Il governatore Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento sull'Ira TV, ha attaccato il governo ed ha ribadito senza mezzi termini che i bimbi, non in regola con le vaccinazioni, non entreranno nelle aule campane. Per quello che riguarda la regione Campania, chi non è vaccinato non può iscrivere i bambini a scuola. Che sia chiaro. Abbiamo fatto uno sforzo enorme come regione Campania, siamo fra le prime tre regioni d'Italia per le vaccinazioni. Non avevamo l'anagrafe dei vaccinati, oggi tutti i bambini 0-6 anni sono registrati nell'anagrafe regionale dei vaccini. Per alcune vaccinazioni, per l'esavalente in Campania abbiamo il 97% di copertura, credo che sia un primato nazionale.